Il futuro della fascia destra dell'Italia potrebbe parlare brasiliano. Amici di Mondo Azzurro, bentrovati da Emanuele Tramacero. Oggi parliamo di Emanuele Benjamin de Santana Balbinot, terzino adesso classe 2007 del Real Madrid. Italo-brasiliano, appunto, è nato e cresciuto in Brasile, a Blumenau, cittadina con forti inclinazioni tedesche, lontano dai grandi centri del calcio brasiliano come Rio e Porto Alegre. Lui inizia con il Futsal, gioca a calcio a 5, poi a 11 anni il padre e Jefferson decidi di trasferirsi in Europa e a Madrid perché vuole un futuro nel calcio per i suoi tre figli. Inizia nel radio da Vallecano e gioca da attaccante, poi a Getafe passa nel ruolo attuale, quello da terzino. Però, avendo una forte capacità di spinta e una gran tecnica, il Real Madrid lo nota e lo porta nella fabbrica. Lì, ovviamente, viene notato anche dagli scout della FGC che notano appunto questa possibilità di testerarlo. Curiosità per la FGC è Sant'Ana staccato con l'Apostolo, mentre il Real Madrid lo chiama Sant'Ana tutto staccato celebrando le origini brasiliane del giocatore. Idoli, il Maicon dell'Inter, Daniel Alves e Cafu, vestiti con la maglia nazionale. Li ha celebrati anche sui social, però ha anche una forte relazione, una passione per Juan Miranda, anche lui passato in Italia, proprio nell'Inter.